13 agosto 2020 in diretta da zamprone paradiso del sub con il vostro ggj guardate che meraviglia sono voluto salire proprio su questo costone per farvi ammirare la bellezza della costa tirrenica calabrese guardate quanti scogli che si frastagliano nel mare e sullo sfondo il camping e poi andiamo a vedere tropea oggi giornata meravigliosa 13 agosto 2020 con il vostro ggj guardate che meraviglia muschi e licheni che scendono sulla scarpata guardate un po ci sono esattamente in questo momento 41 gradi 41 a differenza di simbario che ce n'erano una trentina in fondo vediamo voglio allargare l'aliscafo che arriverà poi al porto di vibbo marina guardate che meraviglia io sono salito proprio su questa pietra dove si vede la mia scarpa per farvi vedere il tutto adesso scendiamo e andiamo a farci il bagno un saluto a tutti da ggj e da questa calabria meravigliosa